Ste città di merda con l'umidità Al 90% Però il lato positivo È che quando vai fuori stai benissimo Ti giuro Quando vai fuori porta Tutti i climi più secchi Vabbè io tanto ho le ossa Che già sono andate con l'umidità Sì ormai Recuperano un po' Farmi tu con lo scudo O io con le accette Farmo io A te dagli HP Sì 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 Forse il top lane ha provato a fare altre F4 No Non lo so Perché in genere quando ci vuole così tanto È che qualcuno prova a quittare Ma lo fa troppo tardi Ti mette comunque in game Grazie Davide Zanelli Del terzo mese Grazie mille bro Bentornato Guarda Ah ok Che cazzo Yeah Giusto Quella corrupting Cazzo Il subic è molto più troll del nostro Sì A counter piccato Zed Ci ha detto Minions 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 Scegliere È stato a prescindere È stato a prescindere di Q Anche se in realtà Se hai attilato a Q Penso che la mia Fa molto più danno È un botto di addire sicuro Mh Oh È stato a prescindere di Q È tuo Oh Ma body Mi hai body bloccato tu No non ti ho body bloccato Già avevi preso il tank Mi sono stato body bloccato In quell'esatto momento Mi ha fatto il passettino a destra E forse è il Minion Niente Ma che fate il punto interrogativo Che eravate quasi morti in due Mamma mia Bene bene Almeno così abbiamo la scusa Per farglielo noi dopo Lorenz grazie dei beats caro Va Vabbè Sono già andati back comunque Tutto ciò Eh sì sì Stava gucciando HP quell'altro Oh io vi picchierei qua In mezzo alla torre Diego Io sono all'uno eh Però Anche questo Ok al posto è così dai Io non so come aiutarti Ok Ok Beh Orchè si abbia perso a plate Per di incipacco Vabbè Ne prendiamo un'altra Ne muoviamo quest'altra Sì Ma perché la gente Si stupisce così tanto Io mi riuscito qui Così Push più velocemente la wave Te l'ho tenuta sotto torre Puoi anche andare back così tanto I mini non arrivano lì Ottimo Io faccio Sello Grazie ai due mesi Sello Bentornato caro Bentornato Legis Dici Però non ti dà gli HP Perché volevo fare il fastidio alla fine Cioè Boh Fagli HP così Si può fare Se faccio il camp anch'io Dici meglio no Dai faccia Aegis E tra Eh facciamo tutti Aegis e andiamo De fastidio Poi ce la teniamo per un'altra volta Va bene La demolizione con Chogat Andata Hai ragione Facciamo il fastidio allora Grazie Hyper Jamma del Prime Benvenuto Naverix Army Jamma Benvenuto Maxo W Cioè mi fa ridere come la gente O se tu non picchi e dici support La botta la devi perdere Secondo loro Cioè è tipo una regola scritta Beh ci sono stati dei precedenti Immagino che abbiano vissuto Delle Vicende Il quanto traumatic Ma questi che cazzo stanno facendo Ho fatto un livello 3 Attaccarei e arrivano le ruspe Grazie Lori per gli undici mesi Bentornato Lori Bentornato E mo la teniamo qua Facciamo uno di quei frizz millenari Veramente cattivo però Ci sta Tanto finchè non facciamo livelli Ci hanno fatto il punto interrogativo Io faccio uno Così ogni tanto refreshiamo Capito Perché non siete in lane Vuoi la città Wilmino Via 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 Prendilo L'uno proprio non fa niente L'uno è impotente Anche lui Oh Oh Vabbè questo si Ok Un po' ambiguo se devo dire la mia Oh Occhio L'ho preso L'ho preso No me l'hai preso Davvero Vai fastidialo Vai un altro Sì Occhio che arriva Twitch adesso Sono lieto di morire per Lo massacri quello Mamma mia Mamma mia Oh Non è già Che cazzo di game che sta uscendo 2v4 abbiamo fatto Ogni tanto refresh Bravo Jacopo ragazzi è abbelenatissimo Per il punto interrogativo Ragazzi quando li chigliamo Punti interrogativo in chat Unitevi anche voi al flame di Jacopo Adesso non risponde più con la faccina Prima rispondeva sempre con la faccina Adesso Bravi Bravi Poi qualcuno può dire Ma faccio E voi prendete per il culo Grandmaster che prende per il culo Gli Irony I bronzi Ragazzi Come l'amore non ha età Il BM Il BMing non ha elo Tutti meritano di essere puniti A prescindere È una lezione di vita Non accetta quello Come quando in fumetteria umiliavi Gli altri I bambini Con i loro structure deck Uguale È lezione di vita E Eccola qui Ci pingano un Drake qua Vado a dare un'occhiata La ward la metto al Drake Tanto per Evelyn non serve niente E questa? Senza arrivare C'ho anche la ultima Ma lui è counter piccato eh C'è ancora all'ombra Questa Io un Graspe te lo bracco intanto Sembra onesto So che Prendo ancora un po' troppi schiaffi Vado a prendere la piantina qui Sto senza mano Anche guarda lì Zed Come so Lo so però È veloce Veloce Con mobilità È venire in blu l'ha appena fatto Quindi non ha senso guardarglielo adesso Eccomi qua Frizz Eh sì Finché non prendiamo gli item del fastidio Gli attrezzi del mestiere Quanto ti manca per Per l'egis Ce l'ho Volendo possiamo Ucciderli e andare back Appena arrivano Ho il farm di Twitch io Oh pushiamo che sono in mid Eh prendi sto farm dai Super Twitch Out farm Ok Buono out farmato Ecco Ci ha pingati Il signor counter pic Oh questa mi sa che la ribaltiamo Eh sì Due blette ce le portiamo a casa Se ci dai vanno Tiriamo diritto su Twitch Che non ha il 6 Sì sì ma poi anche se muoio io Interessante Flash Non ci arrivo Faccio girare qua Guardala Oh Fanculo Twitch Ah Ok Questo non ce lo faccio Senza l'egis Non c'ho abbastanza danni però Va bene ma adesso c'è il counter pic Mamma mia È stato counter piccato Ragazzo Nulla da dirgli È stato counter piccato Signori Guarda lì E noi Non credevamo in lui È quasi in dubbio È il punto interrogativo Eh no Non siamo stati noi A ucciderli Capito Beh Twitch Però abbiamo ucciso noi Twitch e lui Lo abbiamo ucciso noi È vero Dopo siamo morti entrambi Me lo tengo Ce lo teniamo Ci abbiamo il colpo in canna Però Meglio non spararlo Troppo presto Grazie Goldenfish Due mesi Bentornato ad aver xarmi Golden Vengo a tassare qua Tasse Ok non c'avevo la ulti però troppo Hanno tre night Porca troia Mo' son beccato Ciao Arrivo arrivo ragazzi Che altri M-temp fastidiosi Posso farmi Ah è vero Il fastidio Ha perso il liandria Adesso Beh oddio C'è l'altra mascherina Vogliamo andare Con l'altra mascherina La demonic La demonic Il demonic Sì dai C'è posto Intanto non scala nemmeno con l'ap Quindi C'è capito Nemmeno è sprecato Al contrario degli andri Va benissimo Super fastidiosi saremo Ottimo Grazie Rester Phoenix Grazie due mesi Bentornato Bentornato Oh Bang Muoio con onore E con fastidio Guarda il fastidio Che do questo Sei infastidito Oddio Corri corri Ce la puoi fare Ma quanto è veloce quello Eh per di un cibacco Ma perché I nemici sono sempre in 46 Mentre combattiamo Ah ma top è 0-3 Ok Finalmente Dei teammate Come si Eh se solo avessimo avuto un ADC Il jungler è af Che ha un bastone In tutta la sua build Cioè c'è qualcosa Che non quadra Non trovi Vai ma non spaventa passeri Che deve buildare In effetti Perca di Però che bel Aggiungere un arto Qualcosa Ogni danno Giustamente Ma andiamo a bot Perché abbiamo perduto tempo Mid Andiamo andiamo Lasciamo che quello Benvenuti a tutti Dove siete maledetto? Comunque sto Sto demolish Glitchato Non lo cambieranno mai E poi non ho capito Che criterio Segua Non lo so Cioè praticamente Se non in due Ad avere il demolish Ci mette la metà del tempo Ad attaccarsi la torre Oh hai visto? Ma ha quasi tolto Metà dello scudo Porca troia Aia E beh col suo mezzo Nasce Ora voglio dire Questo? Dai prendilo Prendilo Intanto Ah è arrivato anche Prendi prendilo Ce l'ho Oh porca miseria Questo fa un po' male Però Vabbè io corro via Nel caso Triggeratissime Gli ho tirato un'accetta Mentre Mentre team seguia Sono girati Incazzatissimi Dai picchiavano Picchiavano Oh Hello Io posso slow ward Nel frattempo Guarda poverini Ti fanno pena Guarda non riescono Ah no Gli cammino nel veleno Perché mi fa tristezza Ecco qua Mamma mia che pizza Che pare che dia una capocciata Mondo Quando fa la Sì Dà una capocciata Non pare Dà una capocciata Dà una capocciata? Sì Ma è così da Anche sui critici Quello lì è l'animazione Del suo crit L'ho sempre Tutto valutato Mondo Allora Arrivata lei Nice Guarda l'uno come ti entra Nella coup Precisa O ci fosse una volta Che gioca C'ha la ulti Per fightare Grazie Nico Benvenuto a Verixarmi Grazie del Prime Potrei fare una Leggera finaccio Esiste Ma Che cosa è stato Storto? Eeeh Ho fatto il mio meglio Peccato Stavo venendo a salvarti Un po' sfortunello Nasus è perennemente da noi Perché non stack? We can play the same Three hard game Ma secondo te con che criteria sta gente gioca Ranked? Non capisco Cosa vuol dire? Vabbè la classica scusa Quando stai perdendo Eeeh Adesso non ci stavo provando Adesso che ci provo Sì sì Vinciamo no? Ebbè perché la gente giustamente gioca Ranked Per tranquillizzare così Belli tranquilli Poi adesso tryhardo Perché loro tryhardono Se no non tryhardavo Però poi dopo C'è anche quella A volte ti capita Che dopo ti passa la voglia Tryhardaria Ah sì Proprio in quel momento In cui il game sta andando Un pochino male Dici vabbè dai Non ne va più la pena Dopo magari riprendi il Nasher E ti riviene la voglia Eeeh E così E così Cioè E così League of Legends A volte ti prende A volte E cambia Ci capitò anche a noi Un Nuno simpaticissimo Se ti ricordi Un po' di tempo fa Era la botta Era l'angolo rotture Ce la faremo qui Ma chi è che pinga Fiddlestick Ah che è morto poi E beh Quelli che sono Quelli morti pingan sempre Perché ci hanno Possono guardare tutta la mappa Agli altri invece Visuali locati Vedono soltanto Il loro personaggio No Twitch Basta per favore Aia Aia Eccomi Eccomi Sì Mo' vediamo Ok Bene Sopravviverò Ma sì Ma sì Tanto non fa danno Il Twitch Il punto interrogativo Quello è one shot Ah giusto Mi ho dimenticato Oddio Qua era importante Ho messato un po' il timing Sul punto interrogativo My bad 05 Il top laner Mi fa troppo ridere Quello che si lamentava di noi Quello che si lamentava di noi E poi è forte che Si farma la mid lane Nasus Poi torna in lane Prende una kill E poi va via Lascia La sciaglione pascolare Per un po' È come un allevamento Ione Sì sì Lo sta allevando Sì sì Prendi un po' di vino Eccetera Poi torna Bang Macellato Guarda quanto è già fastidiosa La mia build La tua è l'altezza Guarda con la bramool ci sono Gli ha fatto resettare il blue buff Perché la build è il fastidio Non è solo la build È un game style Uno stile di vita Guarda qua In top 2 Uno sei morto Ione di nuovo Mi fa troppo ridere Sta cosa E non l'hanno nemmeno ucciso Ione Can you Stop Stop Trolling Thank you You are ruining My game Così Solo per fargli capire Come funziona 0-6-2 Una sorta di challenge La sua L'allevamento Dello Ione Non si prende Non si vengono più soldi Dai mi mannaggia C'ho big taxes Eh no però Così non si fa Picchia picchia Buono buono dai Bramool E ci siamo Vi so che giocavamo a Mumu però A Mumu si Eh perché Così non devo Attaccare per forza Invece Posso stare lì Piangere E vedere che muoiono Eh lo so Molto bello Effettivamente Devo farmi un po' di resistenza Qua Abbiamo la stessa Entica build Mancano solo le scarpe Che sono diverse Eh ho fatto questi Perché stavamo contro Tutti a P In pratica In bot Infatti c'è Nasus e me One shot Un ally Has been slain Dunque L'Osean È Il drake migliore Per il fastidio I don't Ok I don't understand this game I'm so sorry Ambiguo ma ok Ma io c'ho la Tormill Dopo la Tormill che mi faccio? Facciamo tipo Boh cosa ci si fa Dopo la Tormill La Wormug Mi faccio? Volendo sì Tante HP Oppure possiamo prendere Eh la Forza of Nathur Io però ho 74 di Magic Red No e aspetta Io so Boon Mi serve la Visage Ah c'è ragione C'è ragione Eh io mi faccio la Forza of Nathur Però Oh no io ti inseguo Guarda il fastidio Jacopo Percepisci il fastidio Lo stai percependo? Lo vedo Lo vedo proprio Guarda Ha resa il suo destino Ha resa il suo destino proprio Non c'ha nemmeno provato Il Taretto va bene Questa è la mia fine Ne era consapevole Com'è giusto che sia Oddio Arrivo arrivo Buongiorno Infastidito dov'è Oh Lei vuole essere infastidito Per caso signore Ma dove va Ma dove va Zed si è salvato però Eh si ha fatto l'ulte lì indietro Oh Asagi asagava Ottimo La sua seconda kill Che bravo Fa pure le mastery Guardali le emote Complimenti Hai bandato le mastery Al posto delle skill È per questo che hai Intanto Si è sbagliato Non ci ha messo No Ha vintato a W Su la W c'è la master Io qua li picchio Aspetta stai lì Stai lì No Con quanto si è salvata Quello Che sfiga Si veramente per poco Io voglio vedere il grafico dei danni Sono assai curioso Onestamente Vedere che cazzo Hanno fatto i nostri alleati Guarda Ione fa danni comunque Perché è un champion stupido Quindi adesso che ha preso i due item È one shot a qualsiasi cosa Tra parentesi Il Kaleforce Si vabbè Lascialo fare Finché c'è 100% crit È contento lui Allora La Bissal No ragazzi Cioè Non è Non sarebbe neanche male A parte che io non immobilizzo Quindi no Dovrebbe prendere al massimo Iaco Perché io non immobilizzo Suomumo è forte Suomumo è sta forte Poi sul mondo no Serve la visage Per refullarsi Anzi adesso inculo un po' Di campi di giungla Comunque è bello giocare Anche perché gli oggetti Non costano un cazzo Si che te li giuri subito Io vado Che pena che fa questo Twitch Poverino Ecco qua Oddio E dovevo flashare attraverso il muro In realtà Qualcosa è andato storto Comunque ho poca magic pen Eveline Quindi non mi one shot Adesso Non ci arriveremo mai Questo è troppo Ah vai vai Chogat vai Ho sempre fatto il tifo per te Va bene E niente Ottimo game Così Finita così Tu rendiamo? Questa è proprio un bel game Dov'è andare comunque Esatto Tipo facciamo finta E non vuoi Sarei Ots For fun For fun Eh ma non lo fanno mai Ovunque vada Prenderà il cazzo Comunque dova farsi l'eclipse Zed Se vuole approvarci Non con l'oggettino Beccati il fastidio Oddio Vai ce l'abbiamo Anche questa Eh Grasp Ottimo Che bella la chat Un tizio è entrato Ciao Troy Sospeso da Ahmed Eh niente Eh niente Ahmed aspira polvere Ahmed tosa erba Gli amici sono rassegnatissimi Ma qual è per di sta gente qua? Good idea L'ultimo danno Il signor Cioghat Con il suo counterpick Con il counterpick Ecco qua il grafico dei danni Questo rende bene l'idea Mamma mia Fantastico Mi fa ridere Ecco qua Shut up E' quello lì Che rompe al cazzo Perché non avevamo la DC Sono della ruspa Eccolo Ecco qua il suono Molto bene Ragazzi E' tempo di salutarci E di augurare Di buon weekend And QUI